Giovanni Cavaliero, un giovane di soli 12 anni, ha perso tragicamente la vita mentre cavalcava al mulo con cui era solito trascorrere molto tempo. Improvvisamente disarcionato dall'animale che conosceva bene, rimasto incastrato con un piede nelle briglie. L'animale, spaventato, lo ha trascinato per diversi metri in direzione della stalla, calpessandolo nella sua frenetica fuga. Questa terribile tragedia si è verificata ieri mattina da Gerola, una località montana tra Ponte Tito e Scialli, dove si trova l'azienda agricola di famiglia del ragazzo, che comprende una stalla, un greggio di capri, due muli e alcuni cani addestrati che rappresentavano la grande passione di Giovanni fin da quando era piccolo. Purtroppo è stata proprio questa passione a costargli la vita. È stata avviata un'inchiesta sulla morte del giovane, che aveva il sogno di diventare un pastore.